SANTO CELLO, NON TOCCARLA! Papà, che ha la televisione? Fratelli e sorelle, torno a mettervi in guardia, ma ho poco, pochissimo tempo. Hanno messo a darmi la caccia, l'avversario più temibile. Dove sta? Senta, ci vorrà un bel pezzo. Se vuole aspettare c'è una panca laggiù. Aspetto fuori. Dove eravamo rimasti? Sono andato a fare una gita a Cardiff. Ma in questa calda, torrida estate, ho visto cose. Ho visto strane e pellicose dichiarazioni. Novanta la paura! Ci stiamo caccando sotto! E qui, ho poco tempo. Ho visto strani personaggi. Ti! Amombia rimasti! Grazie a tutti. Ho visto spiaggia e rigori. Ho visto il VAR. Ed una squadra più forte anche della tecnologia. Ho visto la Spagna che travolge l'Italia, ma anche la realtà che viene capovolta. Ho visto il presidente Andrea Agnelli. Non ho più tempo. Loro sono ovunque e cercheranno di essere come voi. Non fidatevi di nessuno. E restate sintonizzati. E restate sintonizzati.